non molto tempo fa avevo dedicato un video su come trovare idee e risorse per gestire a meglio il proprio tempo ed in quella occasione avevo accennato il concetto che il multitasking è una cosa inutile un mito da sfatare era solo un accenno ma oggi te ne voglio parlare un po più in maniera approfondita e farti capire che non solo è inutile ma in realtà non esiste proprio multitasking è una pura invenzione fatta per attirare le persone nel tranello che più cose fai assieme migliore sei tu e si tratta tra l'altro solo di un'invenzione lessicale perché lavorativamente parlando neanche è possibile dal punto di vista fisiologico e psicologico fare del multitasking e oggi te ne voglio parlare per farti migliorare nella tua gestione del tempo ma anche per farti diventare sempre più efficiente nella tua vita di tutti i giorni e nel tuo lavoro e ti vado a proporre anche un esercizio materiale da fare su carta con carta e penna per dimostrarti che cantonata sia però solo dopo la sigla ciao a tutti bentornati sul canale io risparmio sono pasquale il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto quante volte a un colloquio di lavoro ti è stato detto che l'azienda cercava persone volenterose anche perché sembra la gente va a lavorare perché non c'è voglia è multitasking capace di fare moltissime cose assieme tante attività assieme il primo uso pubblicato della parola multitasking è apparso in un documento della IBM che andava a descrivere la capacità della IBM System 360 nel 1965 da allora il termine è stato applicato erroneamente ai compiti fatti da noi esseri umani il multitasking umano è il concetto secondo il quale si può dividere la propria attenzione su più di un'attività su più di un compito o attività appunto in maniera contemporanea facendone appunto uso per completare diversi compiti secondo la comune credenza che in un minore tempo possibile si possono condensare tanti compiti per utilizzare un minore tempo per completare tutti nessuno dice però come dimostrato anche da studi appunto appositi che vengono fatti sul multitasking che questo multitasking può comportare invece una perdita di tempo a causa del cambio di contesto umano e diventare soggetti ad errori a causa della mancanza di attenzione che diventa insufficiente per ogni singolo task dagli anni 60 in poi gli psicologi hanno condotto numerosi esperimenti sulla natura e sui limiti del multitasking umano il disegno sperimentale più semplice utilizzato per studiare il multitasking umano è il cosiddetto effetto psicologico del periodo refrattario qui alle persone viene chiesto è stato chiesto durante questi studi di dare risposte separate a ciascuno dei due stimoli che gli venivano presentati e che venivano ravvicinati nel tempo un risultato estremamente generale è un rallentamento delle risposte al secondo timolo che veniva presentato i ricercatori hanno a lungo suggerito che sembra esserci un collo di bottiglia nell'elaborazione dei dati nel nostro cervello che impedisce appunto al nostro motore umano di lavorare su determinati aspetti chiavi di entrambi i compiti in maniera contemporanea il cosiddetto collo di bottiglia infatti si riferisce all'idea che poiché le persone gli esseri umani hanno solo una quantità limitata di risorse attenzionali le informazioni più importanti vengono conservate mentre le altre vengono scartate o comunque messe in secondo piano lo psichiata edward m hallowell è arrivato al punto di descrivere il multitasking come e cito parole di hallowell un'attività mitica in cui le persone credono di poter svolgere due o più compiti contemporaneamente con la stessa efficacia di uno bene poiché il cervello non è in grado di concentrarsi completamente durante il multitasking le persone impiegano molto più tempo per andare a completare le attività e sono addirittura predisposte a molti più errori pertanto le persone multitasking non solo svolgono ogni attività in modo meno appropriato ma perdono molto più tempo nel processo dall'altro nel 2010 uno studio scientifico ha rilevato che una piccola percentuale della popolazione sembrava essere un po più brava nel cosiddetto multitasking rispetto ad altre persone e queste persone sono state successivamente etichettate con un'altra etichettatura diciamo quasi da supereroe supertasking nel 2015 poi un altro studio ha sostenuto l'idea dei supertasker per cui un po' alla volta diventiamo supereroi questo particolare studio ha dimostrato che le persone facendole guidare su un simulatore di guida e allo stesso tempo memorizzando parole e risolvendo problemi di matematica avevano appunto una particolare predisposizione a farciò come previsto la maggior parte dei partecipanti ha ottenuto risultato risultati molto peggiori rispetto ai punteggi che venivano fatti se i due test venivano appunto effettuati in maniera individuale i supertasker tuttavia sono stati in grado di eseguire il multitasking senza grandi effetti sulle loro prestazioni per cui cosa se ne deduce se ne deduce che la parola vera e propria da utilizzare come si capisce dal contesto non è in realtà multitasking ma come viene definita da appunto da gli esperti del settore switch tasking cioè il cambio continuo di attività ed infatti non si riescono a fare le cose contemporaneamente è impossibile ma si va a switchare a cambiare a passare da un'attività all'altra perdendo l'attenzione dell'una o dell'altra o magari purtroppo di entrambe ora vi faccio andare qui sulla mia scrivania e facciamo un esercizio insieme un esercizio che io feci durante uno dei miei corsi di gestione del tempo o time management se vogliamo fare i figli e poi vi consiglio un libretto che si legge veramente in meno di un'oretta che vi può aiutare a capire questa cosa la gestione del vostro tempo è il mito del multitasking con degli esempi molto semplici va bene esercizio e poi libro marchetta su un foglio come vedete ho scritto la frase multitasking is worse than a lie tradotto il multitasking è peggio di una bugia e poi sotto la numerazione dai numeri 1 a 27 in sequenza che praticamente sono il numero delle lettere esclusi gli spazi che vanno a comporre la frase sopra multitasking is worse than a lie questo è l'esempio ora voglio che mi seguiate nel ragionamento nella riga segnata con uno dobbiamo scrivere di copiando la frase e nella riga segnata col numero due dobbiamo invece copiare i numeri mi raccomando tutto in fila per cui prima scriviamo la frase la finiamo e poi immediatamente dopo cominciamo a scrivere i numeri per testare facciamo partire insieme all'inizio della nostra scrittura anche un cronometro potete usare anche quello del cellulare quello che volete voi quando avete finito fermate il timer e vediamo quanti secondi ci avete messo a completare ora vi faccio vedere io come faccio ed una volta che ho segnato il tempo se volete magari copiare fare anche voi questo test potete tranquillamente mettere questo video in pausa e fare l'esercizio bene ora parto io e allora eccoci qui siamo pronti a iniziare questo nuovo test questo esercizio partiamo col primo test e andiamo subito a scrivere multitasking is worse than a lie sulla prima riga e poi i numeri dall 1 a 27 sulla seconda cominciamo incomincio vai col timer sembra facile ma come si capisce io non scrivo molto bene più che numeri e lettere sembrano geloglifici ma insomma mi dicevano che erano zampi di gallina e la maestra aveva più che ragione quasi finito quasi finito 27 secondi 60 centesimi eccoci qua il primo esercizio è andato ecco fatto ora se volete mettete in pausa questo video e tocca a voi vi aspetto fatto no semplice bene segnatevi il tempo in secondi che ci avete impiegato a completare questa attività ora prendo un secondo foglio un altro con le stesse indicazioni e lo stesso numero di righe bisogna fare la stessa cosa cosa nella prima colonna nella prima riga a scrivere multitasking in world than a lie e nella seconda i numeri da 1 a 27 ma facendo dello switch tasking i caratteri sono sempre 54 ma dovete fare in modo di scrivere una lettera nella prima riga e un numero nella seconda una lettera nella prima riga e un numero nella seconda fino a quando non completerete le due righe in maniera totale se non vi risulta semplice capire dalle mie parole cosa dovete fare quello che faccio come prima ve lo faccio vedere e poi lo fate voi mettendo il video in pausa così come prima abbiamo fatto nel primo esercizio ora parto io ora cominciamo col secondo vado a resettare a breve il timer e in questo caso vado a scrivere se ci riesco le lettere nella prima riga i numeri nella seconda ma non faccio in maniera alternata prima la m e 1 poi la u e 2 se ci riesco perché il mio cervello non è proprio ottimo sono pronto start il timer e via è già sbagliato ci riesco ci riesco un po' alla volta mi confondo come vedete mi confondo mamma come scrivo male e come si può vedere il cervello fa parecchio fatica a cambiare un'attività in maniera continua da un'attività all'altra si perde tanto tempo abbiamo già superato i 27 secondi e va peggio sempre peggio non riesco neanche più a tenere il foglio e il tavolo si muove la camera pure alla fine forse non uscirà neanche scritto multitasking is worse than a lie perché non ci sto capendo più niente siamo quasi arrivati quasi eccolo ok 50 secondi praticamente il doppio cioè il doppio il doppio ci ho messo il doppio torniamo a me stesso ecco fatto come avete visto ci ho messo più tempo parecchio tempo in più ora mettete in pausa e vi chiedo la cortesia di provare voi io come sempre vi aspetto qui come visto il cervello ha enormi difficoltà a focalizzarsi su attività che vengono interrotte continuamente cambiando da un'altra l'altra sul lavoro bisogna focalizzarsi focalizzare la propria attenzione sulle cose una alla volta io l'ho capito un po' con l'esperienza di anni di lavoro ma soprattutto grazie a tanti corsi che ho fatto in merito e poi andare a definire la gestione del proprio tempo in base alle proprie esigenze di vita e lavorative ahimè alborio è cominciato con dei corsi tenuti da dave crinshaw e infatti il libro che voglio consigliare è stato proprio scritto da lui il link lo lascio qui sotto nella descrizione e si chiama si intitola the myth of multitasking sottotitolo how doing it all gets nothing done purtroppo lo si trova solo in lingua inglese ma è veramente ben fatto ed è scritto più o meno come un diario di un consulente che racconta la sua esperienza fatta come consulenza in un'azienda che in forte espansione per le quale le cose sembrano essere a andare benissimo ma il tempo a disposizione sembra essere tempo è troppo poco rispetto alle cose che si devono fare quasi un robanzetto ma in cui tutto quello che ho detto oggi e molti più altri concetti sono concentrati in un libro piccolo così di appena 155 pagine per cui secondo me anche meno di un'ora ce la fate a leggerlo bene spero che questa serie sulla crescita personale possa essere di tuo credimento perché credo che ognuno di noi debba sempre trovare spunti nuovi per potersi migliorare in ogni attività quotidiana che poi andrà sicuramente ad impattare sulla vita lavorativa ma anche sulla vita personale oltre a quella professionale bene lasciami un commento e un bel pollice in su se se il contenuto è stato ovviamente di tuo gradimento e lo fai capire a me e anche all'algoritmo di youtube inoltre se sei nuovo su questo canale e non vuoi perderti nessuno dei miei contenuti successivi le due cose molto semplici che puoi fare e che puoi fare anche in switch tasking perché non puoi sbagliarle sono quelle di iscriverti al canale e di cliccare la campanella delle notifiche in maniera tale che tu non possa perderti nessun contenuto successivo anche per oggi è tutto con questo video e noi ci vediamo domani con un nuovo contenuto ciao ti aspetto il multitasking no switch tasking ti aspetto comunque ciao ciao